Ad oggi, 18 aprile 2020, dichiaro che tra i miei 926 pazienti di Fidenza e Salsa Maggiore non ho registrato alcun decesso per coronavirus. Ho osservato diverse polmoniti, per fortuna, grazie a Dio, tutte risolte brillantemente, tutti dimessi e tante, tante forme respiratorie, banali forme respiratorie. Mi chiamo Dino Pampari, sono medico di famiglia a Fidenza. Il mio numero di telefono è 338-3277-688 Il mio indirizzo mail è dinopampari.gmail.com Il mio numero di telefono è www.fidenza.it